Oggi inauguriamo una nuova rubrica Dire, fare, innovare dedicata a partecipanti della Business Plan Competition Startup Marche 2015 studenti e ricercatori che hanno presentato le loro idee imprenditoriali a contenuto innovativo ricordiamo che Startup Marche è organizzato dall'Università degli Studi di Camerino in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la CNA Marche Sud e Fidimpresa Banca Marche, l'Ordine dei Commercialisti di Macerata e Camerino A inaugurare la rubrica i vincitori di Startup Marche 2015, l'IMICS con il dispositivo Talking Hands strumento capace di migliorare la qualità della vita per i non udenti Il progetto è Talking Hands della Startup L'IMICS e il nostro progetto ha l'ambizione l'obiettivo di riuscire a fare integrare le persone sorde nella società grazie a un nostro dispositivo che fonde hardware e software ad hoc per il riconoscimento gestuale quale permette di tradurre e portare la lingua dei segni da semplici gesta a vera e propria voce grazie a un sintetizzatore vocale che è presente sui nostri smartphone il sito è www.limix.it è in costruzione ma trovate tutte le informazioni principali l'idea è nata mentre stavamo studiando e così diciamo quasi dal nulla ho una pausa caffè e sostanzialmente si è vista da subito il risvolto sociale dell'idea e si è scelto di continuare insieme questo percorso Ricordiamo che l'IMICS si è aggiudicato anche il premio nazionale GESCOM e nel mese di dicembre prenderà parte all'edizione del premio nazionale dell'innovazione che si terrà a Cosenza grazie a tutti